Vendita delle Good Bank si muovono gli azionisti rappresentati dall'Associazione Amici di Banca Etruria. Porta la firma del Presidente Vincenzo Lacroce, infatti, la lettera spedita ai vertici della nuova Banca Etruria, al Presidente Nicastro, alla Dibertola, all'Autorità di risoluzione di Banca Italia, De Polis, al Commissario Liquidatore Santoni, alla Presidente della Bad Bank, Livia Pomodoro. Lacroce mette nero su bianco le richieste per tutelare gli azionisti che hanno perso capitali e diritti con il decreto salvabanche e che non sono contemplati dal decreto sui rimborsi. Lacroce chiede che nel momento in cui saranno valutate le offerte vincolanti per l'acquisto della Good Bank sia tenuta come priorità l'offerta che contenga l'emissione di un warrant o di un altro strumento di possesso di capitale della nuova Banca a condizioni agevolate per i piccoli azionisti, espressione dei territori di insediamento della popolare aretina. Tale soluzione, scrive Lacroce, sarebbe a costo zero sia per l'emittente che per la procedura di risoluzione e al tempo stesso riattiverebbe il circolo virtuoso tra rappresentatività dell'azionariato e vantaggio competitivo della banca radicata sul territorio rispetto agli operatori di grandi mercati. Sul fronte degli obbligazionisti subordinati continuano le proteste nei confronti del governo e c'è allo stesso tempo attesa per gli emendamenti che saranno approvati in fase di conversione del decreto sui rimborsi. La discussione al Senato si dovrebbe tenere tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno.